e passiamo all'altro candidato che qui ospite i nostri studi. Sicuramente Rosario Caccamo non ce ne vorrà se diciamo che si tratta di sicuro del candidato più bello e forse più invidiato tra quelli che concorrono alla carica di sindaco della capitale. A questo proposito Moana Pozzi, lei ha sentito più cattiverie o più interessi nei suoi confronti riguardo alla sua scelta di candidarsi a sindaco di Roma? Devo dire la verità, sono rimasta molto stupita perché sono giorni e giorni che partecipo a delle trasmissioni anche radiofoniche con le telefonate in diretta e anche televisive, le posso assicurare che avevo un po' di timori perché dico mamma mia che cosa mi diranno, cosa mi diranno di tutti colori. Invece la gente si è comportata in un modo completamente diverso, soltanto una telefonata ho ricevuto un po' cruda diciamo, ma per il resto la gente mi chiedeva seriamente, sinceramente, sembrava almeno, che cosa ne pensavo dei problemi di Roma, come pensavo di risolverli. Sono stati tutti molto così, mi sono piaciuti perché hanno preso in considerazione la mia candidatura senza pensare come hanno pensato in molti e non li posso biasimare perché si può pensare. Io abbia fatto questo per un fatto pubblicitario, ma ripeto, il mio lavoro va benissimo. Smentisce, è una cosa falsa, il mio lavoro va benissimo, proprio in questo periodo va molto bene e devo dire che per questa candidatura ho dovuto rinunciare a molto lavoro, ma ormai fa parte dei miei piani perché io ho deciso di usare il mio personaggio che è molto forte, molto popolare anche per un impegno sociale e lo posso fare, lo voglio fare, desidero farlo, ecco, questa è la cosa importante. Dobbiamo dire che ha stupito anche noi e non poco leggere il suo programma perché ci aspettavamo dal leader del Partito dell'Amore qualcosa di più privato che non i problemi del traffico, i problemi dei servizi pubblici inefficienti. Ecco, sì, certo, risponda, poi però le chiedo qualcosa sul privato invece. Certo. Io già col mio lavoro di artista che può essere condiviso porto avanti i problemi quelli che secondo qualche fan mancano dal mio programma. Facendo il mio lavoro io già li porto avanti da anni, quelli della libertà sessuale, quelli della libertà di espressione, quindi mi sembrava, e poi non mi sembrava che Roma in questo momento avesse bisogno di questo tipo di programma. Penso che Roma ora abbia bisogno di cose, di soluzioni per la vita del cittadino. Perché secondo lei come vivono i romani in questa città? Male, male perché ci sono tanti problemi proprio legati alla vita quotidiana. Dalla mattina che uno si alza e va in giro per la strada è sommerso da mille motivi che portano a stress, nevrosi, violenza, cattiveria, perché questa situazione di vita ti porta proprio a essere. Possiamo dire che lei a un certo punto ha scoperto che il pubblico influiva sul privato, questo possiamo dire, cioè lei si è impegnata in politica per andare oltre il suo discorso. Ma proprio per usare Moana Pozzi, la popolarità di Moana Pozzi per delle cose anche che possano servire a qualcuno, perché ho scoperto che ho una popolarità, non soltanto come credevo per la gente che mi segue, proprio i miei fans stretti che seguono il mio lavoro da anni, ma anche proprio una popolarità fatta delle signore, delle mamme. Ci può chiarire meglio che cosa significa usare Moana Pozzi, detto da Moana Pozzi? Allora significa che Moana Pozzi con i mass media ha un discreto potere, insomma. Mi chiamano in televisione, mi fanno le interviste e invece di parlare soltanto di Moana personaggio perché non so, c'è una manifestazione a favore dei malati, ecco che Moana va lì e si adopra per questo, fa delle cose così importanti per la gente.